Voglio ringraziare la sessione di Bedamo per il ringraziamento per la nostra fanfara Anna Orogno, per il nostro amico capo maestro della fanfara di Anna Orogno, Alfio Piziali. Voglio salutare anche Alfio, vice capo Marcello e anche Giuliano, voglio salutare anche la Giacomina, voglio rimettere questa fanfara rosa per l'auto perché questa fanfara è l'ultima sfidata di Trento, non deve mettere una storia perché questo segno non si domenica mai questa canzone. Questi canti non si domenica mai perché si canta veramente ogni domenica e ogni sabato e poi ogni volta, anche settimane, anche sessioni di Bedamo, di 2 e 10, con i veci e base a veci, e tocca anche ai giovani cantare e questa, questa canzone voglio ringraziare anche il capo della sfidata di Milano e di Trento, non domicare una storia. Questa, questa canzone ci volterà più sguardo per la propà Anna Orogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben чего, che bella mori? Voglio cantare tutti ilotenedo von demồ Benzula, benzula Voglio cantare tutti da sola Benzula, benzula E cambiamo tutti giù da sola e soprattutto Bergamo è un coro della Lanza Lanza e soprattutto per caso è uscita uscita della Champions questa non si domenica mai il coro qua Bergamo ci vuole è Bergamo Bergamo per l'Atalanta perché è uscita dalla Champions la cosa importante solo non vincere solo partecipare fase Bergamo Bergamo del Stats l'Atalanta